Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio, ci ritroviamo su Vagrant Story dopo la prima puntata che mi sono reso conto essere ovviamente abbastanza lunga ma anche povera di contenuti in quanto abbiamo visto tutta la parte iniziale, oggi direi di cominciare subito ad esplorare e continuare a giocare a questo fantastico titolo nella puntata scorsa abbiamo visto come le parti della chiesa, della politica, si stiano mischiando sempre di più e stiano comunque traendo le fila, se così si può dire, di tutti questi avvenimenti che stanno succedendo adesso però piano piano vi posso assicurare che la storia diventerà sempre più chiara per il momento sembra abbastanza confusa però vi posso assicurare che piano piano riusciremo a capire il tutto come potete vedere questo è per l'appunto un vero e proprio gioco di ruolo perché come potete vedere le battaglie si effettuano a turni quindi ok possiamo esplorare tutta la zona qui e come potete vedere la mappa ci indica esattamente da dove siamo entrati e ovviamente ci indica da dove possiamo uscire trappola folata, vedete esistono anche questo tipo di trappole che ovviamente ci danno degli status negativi ora gli hp come potete vedere si recuperano da soli dato che questo comunque è un gioco anche abbastanza particolare il risk si azzera qualora lo dovessimo utilizzare e come detto prima più aumenta il nostro risk e peggio saranno le nostre statistiche però per il momento possiamo semplicemente andare avanti volevo farvi vedere appunto anche l'attivazione della trappola perché ricordavo fosse qui cani da guarda del parlamento un agente del vkp quindi loro sospettano ecco l'avete visto Sydney praticamente già sa che noi siamo che noi siamo qui no che siamo presenti e praticamente ha detto che siamo noi il nemico perché facciamo parte per l'appunto del vkp mentre in realtà in realtà noi non siamo del vkp noi siamo dei risk breaker che è ben diverso posso sentire i rumori dell'altro qui dobbiamo tagliare un cubo per poter salire ah dannato lui mi può colpire perché ha la lancia cioè ha la balestra mancato benissimo anche questo l'abbiamo fatto fuori e possiamo continuare la nostra esplorazione allora di qua non c'è niente come avete visto Sydney praticamente ci sta lasciando cioè ci sta lanciando contro le guardie della chiesa pensando per l'appunto che noi facciamo parte del vkp ovvero le guardie o comunque i soldati tra virgolette comandati dal parlamento e qui ovviamente già c'è la prima complicazione del gioco quindi primo terremoto ecco sento di non essere un ospite gradito ma va e quindi prima complicazione del gioco dove appunto non solo ok perfetto devo colpire i pipistrelli devo stare attento perché ecco vedete sono molto veloci e rischiano praticamente di colpirti per prima mi levano poco però c'è anche un cane da qualche parte probabilmente là sopra eccolo che mi colpisce io colpisco lui e cado a terra quindi entriamo verso questa porta che in realtà non è altro che una sorta di challenge la porta è stata chiusa perché qui per l'appunto dobbiamo sconfiggere tutti i nemici per far riaprire la porta quindi eliminiamo il pipistrello che viene one shottato eliminiamo anche il cane attacchiamo subito l'altro cane quindi il terzo avversario e dovremmo avercela fatta esatto e adesso la porta si è sbloccata ma noi siamo entrati qui proprio perché c'è per l'appunto un forziere che ci aspettava con settimo paradiso in bronzo quindi abbiamo la nostra prima balestra il guanto rinforzato radice del vero e radice curativa quindi andiamo su oggetti equipaggia leviamoci la fasciatura e mettiamo il guanto rinforzato che è decisamente più forte e poi come potete vedere possiamo utilizzare per l'appunto la balestra che come diciamo che come statistiche potete vedere la portata aumenta di 9 il risk aumenta di 2 l'attacco 12 con un attacco con un attacco 10 quindi cambia veramente poco e agilità meno 5 questa meno 4 quindi diciamo che magari è più conveniente per il momento lasciare anche la fandango la fandango tra l'altro ha raggiunto il massimo dei pp che ora io non ricordavo forse era nell'officina che praticamente si potevano ok si qua tutto buono aspetta c'era qualcos'altro che si poteva vedere no non mi ricordavo effettivamente i pp cosa come li dovevo sfruttare ma sicuramente mi tornerà in mente aspetta fatemi vedere da no dati sbagliato volevo vedere guida rapida perché i pp per esempio ecco armi e armature fammi vedere un attimo le armi si taglienti perforanti lama manico lama ok modifica ok riparare le funzioni gemma disassembla damage point e phantom point ecco i pp questa sezione tratta perfetto i damage point i dp indicano quanto siano logore le armi e le armature con l'uso i dp di armi e armature decrescono con dp a 0 l'efficacia di armi e armature è dimezzata quindi dobbiamo stare attenti mentre invece i phantom point indicano l'energia del male assorbita dalle armi e armature alle amond i pp aumentano quando usi un'arma o un'armatura diversamente dai dp con i pp al massimo l'efficacia di armi e armature è raddoppiata ok quando i dp e il pp sono al massimo le armi e le armature sono alla loro massima efficienza le ripristine di dp in un'officina utilizzando il comando ripara ok ecco cos'erano perfetto mi ricordavo mi ricordavo un'altra cosa mentre invece vedete adesso facciamo una cosa visto che comunque i dp con la fandango i pp con la fandango li abbiamo raggiunti tutti utilizziamo un pochino di balestra così aumentiamo i pp anche con la balestra tra l'altro abbiamo una portata molto più alta che ci aiuta da questo punto di vista che quello dovrebbe essere forse un pp strello ecco benissimo ok adesso qua io mi ricordavo la magagna riprendere la scatola e di metterla praticamente qui per poi poter salire esatto perché una volta mi ricordo che l'avevo distrutta e praticamente ho dovuto rifare esce e rientra dalla mappa per poter riprendere la scatola si può fare quindi nessuna paura no riesce a colpirmi lo stesso peccato pensavo di no invece ce l'ha fatto lo stesso va bene benissimo anche qua siamo riusciti a fare tutto e adesso questa porta è bloccata giusto c'è qualcosa che tiene chiusa questa porta eh la leva ok per cui dobbiamo eliminare un cubo prendere l'altro e fare la stessa cosa quindi portare il cubo da questo lato e salire per sbloccare la porta ci saranno anche questi questi enigmi all'interno del gioco e anche delle zone di platforming dove bisognerà saltare eccetera eccetera la porta si sta chiudendo quindi porta a tempo ok Ashley ce l'ha fatta e siamo entrati nella nuova zona nella nuova zona diciamo così filmato di flashback fate attenzione a questi flashback perché raccontano tante cose sulla storia del nostro risk breaker papà questo è il fantasma che aveva visto prima quindi ha rivisto il fantasma di suo figlio la trama la trama la trama si infittisce la trama si infittisce ok qui dobbiamo fare la stessa cosa quindi prendere prendere le scatole posizionare le scatole e salire nuova zona dove possiamo ripristinarci non più di tanto questo era il baule se non sbaglio dove possiamo depositare le robe ah no no aspetto ho sbagliato ma posso assolutamente prendere perfetto salviamo come è giusto che sia per il momento la condizione del mio del mio personaggio non è male ho la testa e il busto eccellenti e poi le braccia e le gambe in status buono quindi diciamo che posso posso tranquillamente continuare così al momento non ho non ho non ho problemi proseguiamo nel frattempo la vita mi si ricarica da solo quindi non mi faccio tanti problemi eh già profumo di boss ed è esattamente quello che ed è esattamente quello che succede ah mi poteva colpire da qua e che palle però e mi ricordavo di no come potete vedere il mio risk sta aumentando aumentando il risk come vi ho detto prima potrei ecco iniziare a fallire potrei iniziare oddio no ma perché si è premuto no che stai facendo madonna è impazzito è impazzito mi è impazzito ma vabbè game over cioè mi è impazzito praticamente il joypad non mi ha premuto i pulsanti proprio perché stavo prendendo l'erba curativa per curarmi e invece mi sono ritrovato qua schiattato come se l'angelo fosse una mano quindi rifacciamo il boss che tra l'altro è semplice sto boss ecco vedete R2 cioè ora me lo preme che faccio oggetti dove appunto posso prendere cioè dove appunto posso prendere gli oggetti vedete prima non me l'ha premuto vabbè dai andiamo a sconfiggere questo polletto il filmato purtroppo non lo posso saltare dato che è appunto un filmato introduttivo a questo punto scendo perché tanto è inutile non scendere visto che comunque lui mi colpisce lo stesso quindi scendiamo ecco se magari avessi sparato io il primo colpo sarebbe stato decisamente più carino il risk aumenta di 2 con la balestra quindi dobbiamo stare praticamente attenti cioè perché non mi apre più il menu adesso no ecco porca miseria mi ha fatto un colpo critico dannato perché mi ha attaccato prima lui non siate parsimoniosi con gli oggetti perché tanto ne troveremo uh critico e l'abbiamo buttato già ve l'ho detto era semplice il boss cioè ho perso perché non mi ha aperto il menu semplice benissimo congratulazioni al solito qua prendiamo punti mappa esplorata 3% perché ovviamente ancora non è finita classe risk breaker normal agent e qua abbiamo invece il bonus che adesso è di HP più 5 ma mi sarei aspettato magari una forza in più sigillo camomilla quindi questo è il grimorio che ci permette di aprire la porta indietro dove eravamo praticamente all'inizio del gioco grimorio guerir che contiene la magia heal per recuperare HP e grimorio debile grimorio contenente la magia degenerate diminuisce temporaneamente la forza quindi abbiamo ottenuto dei grimori la porta si è sbloccata ora capisco perché la telecamera non giri ecco qua andiamo su oggetti anzi no aspetta dove devo fare questo ok me lo sto ricordando andiamo su oggetti e utilizziamo il grimorio guerir in modo tale da imparare la magia heal e adesso abbiamo imparato la magia heal come potete vedere adesso si è sbloccato sulla destra il comando sciamano quindi dal comando sciamano possiamo mettere la magia e qua se non ricordo male la possiamo se non sbaglio equipaggiare forse no questa si utilizza così ok mi ricordavo in un'altra maniera va bene stessa cosa facciamo adesso con il grimorio debile però ovviamente non c'è nessun obiettivo quindi nel momento in cui avremo un nemico di fronte potremo lanciare la magia avremo il forziere prendiamoci delle altre scudo piccolo di legno bulbo del velo e lacrime di Yggdrasil quindi come oggetti equipaggia ovviamente scudo per adesso non possiamo utilizzare niente si è sbloccato il comando magie perché adesso possiamo utilizzare le magie che abbiamo stregone attacco sciamano recupero mago supporto e druido affinità quindi avremo delle varie magie che potremo utilizzare durante il gioco che ci permetteranno comunque di aiutarci nel gameplay per l'appunto in base alla situazione ora che abbiamo ottenuto il grimorio possiamo tornare indietro e attraffin Grazie. 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 Ashley recupera dall'oblio della sua memoria le abilità. Cosa? Cosa è successo? Ho recuperato delle abilità ovvero le abilità di chain e le abilità di difesa. Quindi abilità di chain che come potete vedere adesso praticamente sono dei colpi che posso effettuare in diciamo a catena quasi. Quindi posso fare 1, 2 e 3. E come potete vedere ho impostato degli attacchi diversi con quadrato, triangolo e cerchio. Questi attacchi possono essere concatenati se riusciamo a premere i tasti ovviamente in tempo. Il momento ideale per premere questi tasti è quando sulla testa del nostro protagonista apparirà un punto esclamativo. E' difficile all'inizio. Dovrò riprenderci la mano. Ma si possono fare delle combo veramente enormi dove il nostro nemico addirittura non riuscirà ad attaccare più. Dobbiamo stare attenti però perché ogni combo di questa come potete vedere aumenta il rischio di 1-2 punti. Ci saranno attacchi che aumenteranno poi ovviamente con altre armi il rischio aumenterà di parecchio quindi dovremmo riuscire anche ad evitare di aumentare troppo il rischio perché se no come già ci è stato annunciato nel tutorial praticamente falliremo tutti i nostri colpi. Le abilità di difesa sono le stesse cose quindi possiamo correttamente renderci immuni da paralisi e torpore con quadrato, riflette il 40% dei danni con triangolo e riduce del 50% i danni con cerchio. Quindi possiamo adesso effettivamente utilizzare le nostre combo. Tanta roba. A questo punto torniamo indietro perché adesso possiamo tornare indietro. E dobbiamo riaprire il grimorio come prima. Come potete vedere però adesso è apparso un manichino. Questo manichino adesso come potete vedere faccio 0 danni su tutto perché ovviamente questo è un manichino serve semplicemente per allenarmi con le mie combo. Ecco vedete? Lento. Quando appare quel punto esclamativo noi dobbiamo riuscire a premerlo in tempo. Veloce. Sono stato troppo veloce. E buono. Lento. E così via. Vedete? Dobbiamo stare attenti. E' quasi una musicalità. Vedete? Piano piano possiamo recuperare MP. Possiamo fare più danni. In base appunto alla skill del nostro colpo riusciamo a gestire la situazione. Come potete vedere il risk però era già aumentato parecchio. Ero già arrivato addirittura a 10 solo con un paio di colpi. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Soprattutto a ciò che... Soprattutto a ciò che ovviamente facciamo. Vedete? Risk addirittura è arrivato a 10. E la chain soprattutto dello stesso attacco non può essere fatto. Quindi per fare le chain dobbiamo assolutamente fare attacchi diversi. Quindi... E fare attacchi diversi. Ok. Piano piano dovrò riprendere l'abitudine. E' anche una questione un po' di musicalità nel gioco. Perché dovrete andare appunto a tempo anche in base alla hit che farete sul vostro avversario. Con la balestra ad esempio la dobbiamo ricordarci o per lo meglio devo ricordarmi che devo premere i tasti per le combo subito nel momento in cui riesco a colpire l'avversario. Perché il tempo giusto è per l'appunto quello. Allora detto questo io direi di salvare. Visto che comunque direi di aver fatto abbastanza. Direi di aver fatto abbastanza. Per cui... Facciamo salva. Sì fai salva. Salviamo. E per questa puntata direi che possa essere tutto. Nella prossima invece ritorneremo indietro. Faremo per l'appunto uno step backward. backward come si suol dire e andremo ad aprire la nostra porta con il grimorio che appunto abbiamo utilizzato prima. Cioè che abbiamo ottenuto prima. Adesso come potete vedere qui abbiamo chain difesa che si sono sbloccati. Voglio utilizzare il grimorio debile esatto per imparare appunto la magia degenerate. Che serve a ridurre la potenza d'attacco del nostro avversario. Ovviamente l'ho mancato qui però ho appreso la magia quindi a me interessava apprendere la magia. Infatti come potete vedere adesso si è sbloccato mago e posso utilizzare degenerate. I mp vengono ricaricati anche in questo caso ma si ricaricheranno da solo piano piano. E come nella vita è come il risk. Quindi per il momento penso che possa essere tutto ragazzi. Noi ci vediamo nella prossima puntata dove andremo ad aprire la porta con il grimorio camomilla. Se non mi ricordo male era il grimorio camomilla. E andare a vedere che cosa sta succedendo al di fuori di Leamond. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.